E' un po' di giorni che non sento muovere il bambino. Ma è normale, non ha più spazio. C'è bene. L'avete già deciso i nomi? Carlo, sei un maschietto, Giulia sei una bambina. Ma io vorrei tanto, una bambina. Giulia ha un bel nome, sì. Per Cesare erano importanti solo i nomi dei maschi. Cecilia l'ho scelto io. Però in fondo devo ammettere che anch'io preferisco i maschi. Sono così ingegni e teneri quando sono piccoli. Povera Cecilia! Ma perché dite così? Io adoro Cecilia e la sento molto vicina a me. So che saremo persone... Oddio, qualcosa sì. Lei mi dice il buio che scenderà su di noi. Noi che ci addormentiamo uno alla volta. Beh, sono le sette e mezza di sera. La regola vuole che effettivamente si faccia buio. Se poi davvero, come dicono, l'esercitazione per andare a inquinamento di lavanti tutta la notte, io per esempio non è improbabile che mi addormenti. Ma per il resto? Ma no. Per il resto no. Non ho nessuna obiezione di tipo razionale. Anzi, 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 anzi. Proprio il mio razionalismo mi impedisce di pronunciarmi in una questione del genere. Eh? Che cosa ne so io nella morte? Non ho nessuna obiezione di tipo razionale. che cosa ne so io nella morte? Non ho nessuna obiezione di tipo razionale. Non ho nessuna obiezione di tipo razionale. L'amore. Che la rice a questo servono a stare in compagnia? Sorridi al nuovo posto che non fa tantare via. Si vivi in un paratico, da coppia l'avecrea, aggiunge un posto a casa. Visconte! Oh! Cosa? Hai già scoppiato la guerra? No, signore, secondo i miei calcoli non scoppierà che nel 1904. Clotilde, adulta la reggiviva! Preditore! È mio marito! Dov'è mio marito? È qui, signora. Diceva di volermi sposare. È il buio, credevo di essere con te. Infedere spudorato! E ce deve essere un acquirlo che si viena con il mio marito, buono il suo. Ora vede tutti i conti sottostanti. È vero? Non so, non ricordo. Fate voi, per me o l'uno o l'altro va sempre bene. Oh, signore, nome di Dio la sua piccola. Oh, mio Dio! Percherità! Percherità, mi chieda! Mi chieda per questa povera donna! Ma è tutto vero, mi chieda davvero! Signore, la guarda! Mamma mia Dio, smettete! E tu Alice, naturalmente, Beatrice. Come, come? Io? Ma quella lì? Cosa sei da ridere? Nessuno si fa il permesso di offendermi così. Pretendo rispetto o me ne vado? Ma no, scusi, io non rido di lei. Dovrebbe sentirsi onorata ad essere rappresentata da lei. Creda quella lì! E tu che cos'hai da ridere, cretino! Ma... Ma questo fa per tutta la sera che mi prendo la scala! Ma non dicevo per lei, credo! Gli altri bambi sono in un'altra spinta per estate! Ma lo so come la nostra cosa! Ma non c'è... ...e che non può esprimere il lavoro? Ma non c'è... Ma non c'è... Ma non c'è... Questa che precedentemente si fai... E' un'altra idea per il spettacolo di domanda. Quando arriva la carrozza, durante la battaglia, e tu ne scendi, voglio che tu faccia una pausa, una piccola riferenza ai soldati, e io mi schiaffo un occhio di bue sulla faccia in modo da suggerire che ti scendi come un angelo da recente. Oh, George, proviamolo, proviamolo subito!